Tribune gremite per la chiusura del precampionato della Fiorentina che a Montecatini ha affrontato la squadra greca dell'Iraklis di Salonico. Al di là del risultato già poco significativo in questa fase della preparazione estiva, i viola di Paolo Sosa hanno comunque superato gli ellenici per 2-1, grazie ai golden ne acquisto croato l'attaccante Nicola Kalinic e il raddoppio di Ilicic dopo il pari raggiunto dalla formazione greca. Un ritorno, quello di sabato scorso allo Stadio Mariotti dopo il debutto due anni fa della squadra di Montella nella città termale, anche allora una grande festa, uno stadio stracolmo, un evento che segnò il via della preparazione estiva della formazione viola che ripartiva con l'innesto di numerosi campioni che avrebbero rilanciato in Italia e in Europa la Fiorentina. Anche sabato l'entusiasmo non è stato da meno, a Montecatini sono arrivati in tanti tifosi viole appassionati di calcio, sugli spalti gli spettatori paganti erano quasi 1.600. Una giornata di sport per la città termale, vista la coincidenza con l'evento clou dell'estate in provincia di Pistoia, il Gran Premio di Ippica, città di Montecatini Terme. Una Fiorentina già reduce da altre amichevole, anche in zone vicine al Porta Elisa di Lucca, il giorno prima sulle tribune erano presenti circa 3.000 spettatori. Spettacolo sul campo e spettacolo sulle tribune, nonché il dopo partita con la classica e inevitabile caccia agli autografi e un disponibilissimo Paolo Sosa assediato dai giovanissimi tifosi della Fiorentina. Sul fronte della cronaca la squadra viola è scesa in campo con una formazione mista, titolari e seconde linee, con Sepe tra i pali, Tomovic e Pasquali, esterni difensivi, Agassi e Bagadur centrali, Suarez e Vessino a centro campo insieme a Gilberto Ilicic e Mati Fernandez a sostegno del solo Kalinic in avanti.